Nei pressi di Porto Badisco, una motovedetta della Guardia Costiera, alertata da una barca a vela nelle vicinanze, ha soccorso 55 persone che si trovavano a bordo di un natante di 12 metri che rischiava di affondare. L'imbarcazione è stata scortata sino al porto di Otranto. A bordo 34 uomini, 6 donne e 15 bambini di nazionalità irachena. Un uomo è stato bloccato al fine di verificare se sia lo scafista. Sono intervenuti anche uomini e mezzi della Croce Rossa per fornire assistenza ai migranti una volta giunti a terra. Un migrante è stato curato per scabbia e sono state attivate le procedure di profilassi. Un altro migrante invece è stato ricoverato per appendicite. Un neonato invece ha avuto un piccolo malore ed è stato trasportato presso l'ospedale di Scorrano.